ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo melatonin e credo che lui voglia il joypad quindi sfoggiamo il joypad ok pronto pressato start ok settings audio musica non è male comunque 5 metronomo va bene accessibilità calibrazione keyboard ma c'è allora la tastiera space tasto destro scusate allora possiamo andare con la tastiera perfetto giochiamo con tastiera perché più bello poi vedremo anche come magari è meglio giocare con comunque come potete vedere non c'è la lingua in italiano start demo procedi c'era l'epilepsy warning ok ok ci dice praticamente che è basato sulla musica e quindi non dobbiamo dobbiamo avere la musica alta cioè che si è accesa e per avere una più bella esperienza e non un bluetooth audio perché sennò ci sarà qualche tempo di lag per il test input follow the rhythm in it space on beat ok ok ci dice di portare di premere space vediamo un attimo vediamo un attimo ok così ok ritardo perfetto ritardo presto perfetto no va bene manuale calibrazione manuale perfetto proviamo tutorial a questa metronomo il metronomo ritardo ritardo rifacciamo rewind ok ci siamo perfetto proviamo il 4 bit è scomparso non c'era più vabbè 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 ci siamo lr ok non avevo capito ok perché fa la la fraccina il ritardo ok l'abbiamo capito pronti per il gioco andiamo notte 1 madonna i donalds alla pizza e cose patatini sono un po' della merda è un po' schifo quella camera quindi c'è una storia a lei gli piace il cibo cibo pratica che cacchio è sta roba ogni inizia con una pratica mod tempo e metronomo ok prova ma che è ma che è ah una volta che aprimo lui apre la bocca e magna è amante del cibo sto dizio lo sentire il metronomo ok perfetti ritardo ok va bene score mod andiamo al punteggio reale ok ma dov'è là non c'è ce lo devo fare adesso io ma mancano dei pezzi ahhh ho capito ora non ci vedo ok ho capito prima era facilitato adesso non è più facilitato 3 4 troppo ritardo donuts troppo ritardo ho perso il tempo perfetto questo nooo vuole farlo di 2 ehm restartiamo ma nooo vai il burger vai il burger nooo troppo presto troppo presto nooo c'ero pa ora bravo i donut i donut sono difficili i donut sono difficili pa pa mai ok troppo presto troppo presto troppo presto nooo preso 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 ok siamo una stella apriamo l'hard mode no è bloccato ok cosa vuol dire score 2 ok to unlock the hard mode ah dobbiamo rifarlo ok bella il ritardo ahhh gli hamburger li facevo sempre vai nooo perso perso la scelina No 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 Niente i donuts Faccio schifo con i donuts I donuts faccio schifo Ok I donuts faccio cacare C'è proprio schifo schifo E purtroppo l'hard mod dobbiamo per forza Sbloccare due stelle ma se andiamo alla mappa Vediamo un attimo Ok abbiamo fatto dream Una stella Shopping Andiamo allo shopping Oddio già ho capito Non ho capito bene Cosa devo guardare Un po' difficile questa Ok Andiamo allo score mode Vediamo un attimo Non l'ho capito questo Cosa devo guardare io Non l'ho capito Allora vediamo un attimo Non l'ho capito Non lo so Ah forse quando atterrano la sequenza Nella sequenza come te Cosa è ta 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 Ah ho capito Ta 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 Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ci riproviamo ma è difficile questo Allora Pezzone in late totale Ok Eh Va bene Se l'ho preso Questo no Questo no Pa 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 Slow down Slow down To land Ma sto cannando tutti Vabbè Proviamo un'altra mappa E vediamo un attimo Cosa c'è Questo fa sogni strani Comunque Tec Io più di una stella Ah Dobbiamo capire anche cosa Bella Stazione Un bel setup c'è il tizio C'è una playstation Tra l'altro Ma in ritardo Non ho sproto Perché guardo il cerchietto Ok Ok abbiamo capito Più o meno Com'è Adesso ci proviamo Senza l'aiuto Pa 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 Ah È scompasso quello Non l'ho capito Non l'ho capito Peccato per un nero Ho fatto un casino Warning Che è Ma dai Ho fatto un casino Ilneo Il código Il Il L suspicion Il Ok Diciamo che Do un commento così a freddo Di solito non le do su una preview Però Che cacchia è la switch Allora Carino però c'è un problema La musica Cioè i suoni che ci sono sono forbianti E non sai mai Quando devono entrare Però per il resto non è male Mi piace anche la stile grafico Cioè i suoni che ci sono forbianti Tipo questo Vedete Cioè io Sembra che devo guardare lui Invece no Ha preso dei perfect Però è difficile Perché tu poi ti tendi a guardare lui Quando salta Invece no Tipo adesso Tipo io non so cosa devo fare qua Ho preso un perfect Non so neanche perché Non lo so Non lo so eh Cioè praticamente Sto chiudendo gli occhi Per non vederlo Ok exit Sì ma questo Veramente è difficile Da capire Perché poi c'è lui Che salta E non si capisce Cosa devi fare Vediamo andiamo Forse qua ci sarà l'ultimo No Credo che Abbiamo finito la demo Forse questo si sblocca Quando farò Qualcosa di figo Ah Servono otto stelle Vediamo se riusciamo a fare Quello del food Ok Facciamo un test Togliamo Usiamo la tastiera Togliamo Togliamo Grataria Tutto 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 Ok Tutto donalds attenzione ho preso quello con il donalds fico poi cosa avevamo c'è sempre una stella siamo lo shopping l'hytec proviamo l'hytec di nuovo con il mouse e tastiere cioè con la keyboard in questo caso no 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 skip non voglio fare la pratica voglio fare direttamente ok ok warning ci ha fregato no 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 quasi due stelle quasi due stelle restart vediamo facciamo l'ultima vediamo se ce la facciamo tutte le ps4 vediamo 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 Grazie a tutti. Grazie. Oh, quasi due stelle. No, peccato. Ok. Poi ci abbiamo i follower. Questo è difficile. Schippiamo la pratica. Perché aspetta, facciamo dire una pratica. Ah, è quando lui abbassa. Ok, ok, ok. Ho capito. Quando lui abbassa il pulsante del coso dobbiamo saltare. Vai. No, no. Non ne sto indivinando nessuna. Non ne ho indivinato nessuna. Non lo capisco. Non ne ho indivinato nessuna. Non l'ho capito. Signori, non lo capisco. Non l'ho capito. E dato che questo non l'ho capito... Usciamo anche da qua. Capitolo. Ci sarebbero gli altri che però noi non abbiamo sbloccato. Perché non siamo capaci. Ok, bene signori. Io direi che per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo giochino. Anche se trovo un po'... Arzigogolato alcune cose. Non si capisce. Ci dovrebbe qualcosa veramente di riferimento. Ci sono, ma tipo quello dei telefoni non ho capito. Completamente come si debba andare avanti. Quindi, come sempre lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi. Sempre ben accetto per supportare questo canale e portarvi contenuti come questi. Vi lascio il link in descrizione del gioco, di Steam e come sempre siete medici. Alla prossima. Bye bye. Ciao.